Dal Santo Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore disegnò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi Diceva loro La messe è abbondante ma sono pochi gli operai Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo ai lupi Non portate borsa né sacca né sandali E non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada In qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa Se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui Altrimenti ritornerà su di voi Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno Perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa Non passate di casa in casa Quando entrerete in una città e vi accoglieranno Mangiate quello che vi sarà offerto Guarite i malati che vi si trovano E dite loro è vicino a voi il regno di Dio Mi aiutava molto questa prima lettura che abbiamo letto La relazione che c'era tra Paolo e questi suoi discepoli collaboratori Ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre notte e giorno Mi tornano alla mente le tue lacrime E sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia Questo è bellissimo perché Come dice il Signore che invia gli apostoli Dite loro è vicino a voi il regno di Dio E in fondo il regno di Dio che appare poi anche nelle istruzioni che dà il Signore E a questi discepoli apostoli, apostoli del regno Figli del regno e apostoli, testimoni del regno E' questo amore, questo amore che supera la carne, questo amore che supera le distanze San Francesco Saverio portava al suo collo Portava un foglio, un foglietto, una piccola tè Con le firme di Sant'Ignazio di Loyola e dei primi set E discepoli, fratelli, compagni di Sant'Ignazio Se leggete le lettere di San Francesco Saverio Dal Giappone, dall'India, dai vari posti dove era A Sant'Ignazio di Loyola sono pieni di amore, di rispetto e di amore Per suo padre, che lo chiamava così Il mio padre Ignazio Questo rapporto che colpisce perché non è per scelta Dice non voi avete scelto me ma io ho scelto voi E questo che è tra il Signore e noi E allo stesso modo tra noi fratelli Tra noi nella Chiesa, nella comunità cristiana, nel regno di Dio Non io ho scelto te, tanto è vero che nel marito e la moglie Tanto è vero che nel rito del matrimonio non è io ho scelto te Io accolgo te come un dono di Dio Io accolgo te come colui o colei La quale Dio ha scelto per me E' ben diverso, è tutto legato Perché o c'è un rapporto trascendente Cioè che va oltre la carne ma che coinvolge la carne Per questo ho nostalgia di rivederti Ma non per semplice affettività Figurati, Paolo era liberissimo Andava di qua, di là, non aveva a dormire Come il Signore Cioè la vita del nostro Signore Gesù Cristo Appare nella sua Chiesa Perché il regno di Dio è Cristo Cioè il regno di Dio è in mezzo a voi In mezzo a voi c'è qualcuno che voi non conoscete E Cristo, è il corpo di Cristo che è la Chiesa Dove tutto quanto di buono, di nobile, di bello Viene l'uomo È portato a compimento Dentro una trascendenza Sì, tutto quanto viene di umano È nobilitato, è abbellito fino al compimento Rimanendo uomo, portando questo tesoro in vasi di creta Però quello che appare in un apostolo Quello che appare in un cristiano È questo amore impressionante che sta dentro Dentro il suo vaso di creta Che però rende questo vaso di creta Rende ogni sua parola, ogni suo gesto Ogni sua attitudine Una immagine, una somiglianza di Dio Il cielo Per cui l'amore è vero, è autentico Non è geloso Cioè quello che dice Paolo della Caritas Della capè Dell'amore L'amore è Dio Non si adira Non tiene conto del male ricevuto Tutto copre, tutto spera Tutto lo perdona Stiene gli altri superiori a sé Allora tutto questo si vede qui Pregate il padrone perché mandi operai nella sua messa La messa è abbondante ma sono pochi gli operai Questo vuol dire Operai che operano questo amore Nei quali si realizza È all'opera questo amore soprannaturale Perché il padre invii questi operai Cioè perché il padre nella chiesa Formi lui stesso Attraverso la parola, i sacramenti L'iniziazione cristiana Questi operai Che abbiano una fede alla statura adulta E che amino con l'amore stesso di Cristo Non si tratta che mancano i preti Che mancano le suore No, mancano cristiani Cioè operai che operano l'amore soprannaturale Nelle loro famiglie, nei posti di lavoro E questi operai non si inventano Li manda il padre Attraverso la chiesa Li manda e li forma il padre Per questo chiedere che Nella messe dove sono pochi questi operai Sono pochi questi cristiani Che hanno una fede adulta Capace di amare Significa Padre, forma cristiani Padre, aiuta la chiesa Fortifica la chiesa Colma la chiesa dei tuoi doni Perché possa formare senza pausa In tutte le zone del mondo Operai cristiani Che operano con le opere della fede adulta Della fede che genera opere di vita eterna Amore al nemico Che prendono i peccati degli altri su di sé Che prendono l'ingiustizia Che non resistono al male Che vivono il discorso della montagna Ovvero la vita stessa dell'operaio per eccellenza Che è Cristo Questo significa operai inviati nella messe del padre Perché ogni persona appartiene al padre Quelli ai quali siamo inviati Appartengono a Dio Non appartengono a te E servono operai che li riconducano al padre Che li riportino al paradiso Operai nei quali operi la grazia La grazia santificante Cioè la grazia che separa questi operai dal mondo Perché vivano la vita di Cristo Perché Cristo sia vivo in loro Cristo che ha dato il suo sangue Per riscattare la messe del padre Per riscattare ogni uomo Dall'inganno del demonio Dal peccato Dalla paura della morte Dalla schiavitù al peccato Perché possano ritornare al loro padre Buonissimo Operai Che operino Opere di fede adulta Cioè l'amore di Cristo Sino alla fine Che spargano il loro sangue Insieme al sangue di Cristo Perché tutte le persone Che sono nella messe del padre Possano ritornare al padre Possano essere di nuovo Proprietà del padre Per salvare la messe Tutte le persone di questo mondo I tuoi colleghi di lavoro I tuoi amici La tua fidanzata Tuo figlio quando sta male In crisi Tuo marito Eccetera È necessario Che il padre Mandi operai Che amino Che stendano le loro braccia Sulla croce Che vivano questo rapporto Trascendente Questo rapporto soprannaturale Tra loro Perché nel mondo si veda All'opera In questa fabbrica dell'amore In questa fabbrica Della comunione Dell'unità Al di là delle razze Delle culture Delle età Una chiesa Fatta di giovani Vecchi Fascisti Comunisti Poveri Ricchi Nevrotici Che vivono in una comunione Soprannaturale Che non si possiedono Perché sanno Di essere proprietà Del padre Di essere figli di Dio E per questo sono liberi Liberi dal peccato Liberi dalla concupiscenza E per questo Amano Senza riserve Perché gli operai Che chiediamo al padre Sono Il popolo di Dio Il popolo santo Sono operai Che facciano presente Il regno di Dio Cioè questo amore Per questo l'urgenza Che non li fa Passare di casa in casa Cercando affetto Consolazione Prestigio Riscontro Gratificazione Ricompense Alla loro missione Per questo andare Come agnelli Come agnelli In mezzo ai lupi Cioè un agnello In mezzo ai lupi Non esiste no? Nessuno va come un agnello In mezzo al lupo Al lavoro Sindacati E non è che Stiamo parlando Di gente cattiva E noi invece andiamo così Mangiando e bevendo Quello che hanno davanti Cioè Mangiando e bevendo Tutto il veleno La stanchezza I peccati Di quelli Che ti accolgono Che veramente Mi rendo conto Per esempio Che basta così poco Alle volte Con le persone Capita una persona Che ha un defunto Il padre O la madre Ma solo che vai a casa Fai un sorriso Fai una preghiera E ascolti i loro dolori Prendi su di te Le loro lamentele Le loro mormorazioni Se vogliamo anche Spesso contro la chiesa Ti mangi tutto Ti mangi tutto Assumi le loro sofferenze Prendi su di te I loro peccati E li porti a Cristo Sei lì come un agnello In mezzo ai lupi Che magari sono ribellati Perché è morto suo figlio È morto suo padre È morta sua madre L'hanno licenziato Ma al solo vedere Un agnello Di fronte a loro E Si sentono amati Si sentono E ti tirano fuori Tutto quello che Hanno dentro E tu lì come una pattumiera Ti prendi tutto E lo bruci In quel termoventilatore Che è il cuore Di Cristo Il suo amore Che brucia tutto E vedrai che le persone Che sono accanto a te Io l'ho visto tante volte Cominciano a cambiare Atteggiamento Cominciano ad ascoltare La parola Cominciano ad appoggiare La loro vita Sull'amore Che ha salvato te Che ti porta a loro Come un agnello Immolato Cioè diventi tu Il loro cibo Diventi tu L'agnello di Dio Che si offre In sacrificio Per saziare La loro fame La loro fame di giustizia La loro fame di amore La loro fame Di attenzione Esattamente quello Che ha fatto Cristo con te Che si è fatto agnello Per te Così anche tu In Cristo Con Cristo E per Cristo Come operaio Del suo amore Come operaio De la sua misericordia Ti fai agnello Perché i lupi Ti sbranino Perché i lupi Ti mangino E una volta Mangiato l'agnello Il lupo Guarisce Il lupo È trasformato In agnello Quello che accade a noi Nell'eucarestia Quello che accade a noi Nella chiesa Per pura grazia Allora quello che noi Sperimentiamo Lo portiamo fuori Per questo gli operai Inviati nella messe Sono operai formati Operai che da lupi Sono stati trasformati In agnelli Per salvare Questa generazione di lupi Che è tuo figlio Che è tuo marito Che sono i colleghi di lavoro Che è tua suocera Che sono le persone Accanto a te Per questo vai come un agnello In mezzo ai lupi Per ammanzire i lupi Perché nel regno di Dio Il lupo ti morirà Con l'agnello Per questo il Signore Dice questo Nasce una cosa nuova Appare nel mondo Una nuova creazione La chiesa Che attrae Con l'amore Degli agnellini I lupi Agnellini che non Si sono scelti Ma che sono stati scelti E costituiti Perché diano frutto Il loro frutto Rimanga per sempre La vita eterna Nelle persone Alle quali siamo inviati Questa libertà Che c'è tra noi Che nasce dall'esperienza Di essere stati Riscattati Liberati Da Cristo Di essere stati Scelti E non aver scelto noi Né Cristo Né i fratelli Con i quali siamo Questa libertà Dell'amore Soprannaturale Che scorre tra noi Perché scorre tra noi Il sangue di Cristo E che genera A sua volta Lo zelo Questa urgenza Questa fretta L'urgenza Della carità Che ci fa dare Tutta la vita Per una persona Senza Legarci effettivamente A quella persona Sapendo che La libertà Più grande Nell'evangelizzazione È proprio questa Lo dico per esperienza O nella vita Però l'evangelizzazione Non è solo l'evangelizzazione C'è anche il rapporto Tra sorelle Tra marito e moglie Io ti annuncio la pace Io ti annuncio Gesù Cristo Ti do la pace Tante volte ti annuncio Vieni Vieni ad ascoltare Stai lì Ma io Due, tre anni Curando una persona Accogliendola In Giappone No? Per metterla poi Nella chiesa Per metterla poi Nella comunità Piano 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 E poi Paff Quando arrivi al momento Di ascoltare una predicazione Quando arrivi al momento Di fare quel passetto Sparisce L'avevo fatto io tre anni Quattro anni Con questa persona Da quella pace Ritorna su di voi Potremmo meditare oggi Questo Come mai io Non ho pace Quando l'altro mi rifiuta Come mai io Non ho pace Quando l'altro Non capisce O non accoglie Non me Se non il Vangelo E lo può dire Un marito con la propria moglie Una moglie del proprio marito Dei genitori con il proprio figlio Ma come? Ho fatto tanto Ti ho annunciato il Vangelo Ti ho trasmesso la fede Mi sono impegnata per te Mi sono sacrificata per te E come mai tu mi rifiuti? Perché perdi la pace Se l'altro non accoglie Quello che tu gli annunci Il tuo amore L'amore di Cristo Perché? Perché perdi la pace? Perché se non hai pace Non stai annunciando il Vangelo Se non hai pace Non stai annunciando Cristo Stai annunciando te stesso Se l'altro ti rifiuta E tu perdi la pace Vuol dire che tu Stai portando te stesso Meditiamolo oggi Perché perdo la pace? Perché sto nervoso? Se il Signore dice Che quando ti rifiuteranno La pace Riscenderà su di te Dovresti avere pace Sai perché? Perché non mi basta Cristo Perché Cristo Alla fine diventa un feticcio Che io uso per me Per la mia Vana gloria Per la mia affettività Eccetera Ma se mi basta Cristo Francesco sulla Verna Ha dovuto passare Per questa purificazione I frati che erano contro di lui Che non accettavano la regola Sino che con le stigmate Il Signore gli ha risposto Amata Nell'amato trasformato Cioè Ha visto tutto compiuto Nell'essere crocifisso con Cristo Agnello Nell'agnello Per il mondo Questa era la sua missione Ed è entrato nella pace Cioè la pace Ritornata su di lui E proprio San Francesco Ci fa capire che La pace non significa Che non hai dolore Quello certo Il dolore è un'altra cosa Il dolore di Cristo Di fronte A quegli scrivi A quei farisei Che non lo accoglievano Lo rifiutavano Ma se tu perdi la pace Allora vuol dire Che a differenza di San Francesco Non sei un agnello Non ami Non ti stai donando gratuitamente Hai dimenticato Che sei stato amato gratuitamente E che Cristo E che Cristo non ha perso la pace Quando tu l'hai rifiutato Ma è scesa su di lui Per conservarla per te Tu l'hai rifiutato Vero? Io ho rifiutato Cristo E la pace Che tu hai rifiutato Tante volte È ritornata su Cristo E Cristo L'ha custodita per te Aspettando che tu ti converta E il fatto che Cristo Non abbia perso la pace Il fatto che Cristo Ti abbia continuato ad amare 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 Perdonare 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 Questo fatto Che tu hai visto La pazienza La misericordia La tenerezza di Cristo Con te sempre Questo è stato lo scrigno Dove la pace Che tu non hai voluto È stata conservata per te Perché Nel momento in cui Tu ti converti Nel momento in cui Tu dici Basta Non ce la faccio più Possa aprire Questo scrigno E prendere la pace Finalmente Allora La pace rimane su di te Perché tuo figlio Quando rientrerà in se stesso Suo marito Tua moglie Chi sia Quando ritorneranno In se stessi Potranno tornare A casa del padre Potranno tornare Da te Che gli hai annunciato La pace Che rimani Conficcato Nel suo cuore Come l'unico Che glielo ha amato Veramente L'agnellino Che si è fatto Mangiare Dal lupo Che è l'altro Rimani lì Lì dentro Con una memoria Dell'amore di Dio Che lavora Dentro Il cuore dell'altro Ecco l'operaio Che si fa mangiare E opera Dentro Quell'amore Quel non resistere al male Per prendere il peccato Dell'altro Opera Con pazienza E diventa E diventa la nostalgia Che ha sperimentato Il figlio prodigo La nostalgia Della casa del padre La nostalgia Di essere figlio Destata Dal tuo atteggiamento Dal tuo essere Agnello Agnello Nel agnello Figlio Nel figlio L'ha visto L'ha visto in te Il lupo Ha visto in te Questa attitudine E quando scopre Di non avere più nulla Da mangiare Di essere diventato Un lupo landaggio Che non ha dove andare Che non è accolto Da nessuno Scacciato Come accade Quando uno sperimenta Il fondo Dei propri peccati Il fondo Del proprio fallimento Allora Questo lupo Sa dove tornare Sa dove Cercare Da mangiare L'unico cibo Che lo può staziare Quello che tu gli hai presentato Accogliendo Quello che lui ti ha dato Lasciandoti mangiare Dalle sue Fauci Ti sei offerto Vero? Ti sei offerto come agnello Bene Quel lupo Prima o poi Tornerà Dall'agnello Perché si compie la parola Il lupo Dimorerà Con l'agnello Il lupo Tornerà Dimorare Laddove dimora L'agnello Ecco l'agnello di Dio Dice Il battista Allora Dire questo Lo seguirono Maestro dove abiti? Venite e vedete Andarono Videro E si fermarono Presso di lui Bene Questo si compie Nella tua vita Questo significa essere operaio Operaio che mostra La casa dell'agnello E la tiene aperta Aspettando con gli stessi occhi Del padre Con gli stessi occhi Del padre Del figlio prodigo Che attendeva con pazienza Il suo ritorno Operaio Della casa del padre Operaio Della chiesa Dove l'agnello Il figlio di Dio Attende Ogni lupo E questo Ogni operaio Lo può fare Perché vive da agnello Perché i suoi atteggiamenti I suoi pensieri I suoi sguardi Sono quelli dell'agnello Che si offre volontario Perché ha dentro una vita Eterna Può donarla Bene Chi vede questo in te Da lupo Diventerà agnello Mansueto Tornerà Papà perdonami Mamma perdonami Moglie mia Marito mio E perdonami Forse dopo aver fatto Tanti peccati Forse tuo marito torna Dopo aver avuto Dieci amanti Malato E tu lo accoglierai Perché tornerà Alla casa del padre E troverà la salvezza Troverà quell'amore Che ha sperimentato Proprio mentre Ti stava mangiando Il tuo sangue Ricada su di noi Dicono Mentre crocifiggono a Cristo E quel sangue È ricaduto su di loro E li ha salvati E tra quei loro Ci sei tu Ci sono io E così il regno Si è fatto vicino A noi E così il regno Si fa vicino Al mondo Attraverso di te E di me Attraverso la chiesa La casa dell'agnello La casa del padre Spalancata Per ogni uomo La casa del padre